Laboratori di ricerca e esperienze sensoriali attraverso una lunga serie di attività tra il ludico e il didattico per i bambini di due quarte dell'Istituto Comprensivo 5 di via Cavour a Pescara che nei giorni scorsi sono stati ospiti nelle aule del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche di Università D'Annunzio a Chieti. Si è ad esempio cercato di capire come può un cane attraverso i suoi sensi trovare cose o persone. Avere a che fare con un'altra specie è una cosa fantastica perché permette ai bambini di relazionarsi con un altro animale che però come primo senso, come senso più potente, ha l'olfatto e vedere come lo utilizzano in una maniera eccezionale. E poi tante altre attività grazie al supporto dei giovani professori che hanno dato il loro contributo per far conoscere ai bambini il mondo con i cinque sensi. Siamo stati invitati dall'Università per partecipare a questa giornata qui al centro con i nostri bambini e abbiamo accolto molto bene questa richiesta che ci è stata fatta perché anche i bambini sono entusiasti anche perché sono tutti argomenti che comunque studiamo quotidianamente a scuola e soprattutto con queste attività sui cinque sensi i bambini sono veramente contenti. Un plauso al progetto da parte della grande dell'infanzia della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene che ha sottolineato come sia importante puntare sulle potenzialità dei bambini e non solo sulle loro fragilità. A coordinare il progetto la professoressa Valentina Tomassini. È un progetto di terza missione dell'Università, quindi l'Università che si muove verso la società e che coinvolge bambini della scuola primaria in questo caso ma sarà in futuro scalabile anche per età superiori e ha come tema i cinque sensi come canali per esplorare il mondo. Nella giornata di oggi i bambini utilizzano, amplificano i cinque sensi, olfatto, udito, gusto, vista e così via per capire che potenzialità essi hanno e per capire come questi cinque sensi ci aiutino ad avere consapevolezza del nostro corpo e ad interagire con il mondo esterno, a creare il concetto di spazio e il concetto di tempo. Tutti aspetti che i bambini possono poi riutilizzare in futuro per comprendere meglio il mondo che li circonda e anche per apprendere meglio.